Così è partito il video? È partito il video, è quello che ho fatto io quando sono partito da Roma. E poi che succede? Poi dopo, quando sono arrivato qui, era spento, con la batteria perfettamente carica. Guarda che non va! Ah, è strano! È fatto apposta questo? Eh? No, questo deve stare avanti. Perché adesso, io da dovecevo, c'avevo tutto solo in faccia, non vedevo niente bene. Certo, adesso stai ancora registrando. Stai registrando, lo vedo? Sì, sì, lo vedo. Perfetto. Questa adesso mi metto con l'altra macchina dietro, non l'ho messa. E quest'altra te la metti? Questa sulla coda. Sì. Devi scendere? Sì. Allora... Questa però, almeno, c'è un display dietro. Questo ormai è però dei batteri. Questa è... Eh, video. Sì. Sì. Allora... Vediamo? Ecco. Regista, no? Sì. Ok. Questa la devo chiudere, sennò con la velocità si spegne. Ah ve, veramente? Sì. Adesso metti in moto e poi ti spegne. la velocità di questo è più forte di quello di questo aereo è più veloce di quegli altri sono molto manovrabili ma non che siano a partire la velocità non fa parte questo è una cosa piuttosto importante allora io prima ti guardi quello che ho detto le sensazioni sono delle sensazioni che il corpo conosce benissimo l'unica cosa che devi abituare che quando lo so il volo rovescio non è che la terra è andata su e tu ti senti strada è l'aeroplano che si è girato semplicemente il peso il peso lo posso far mandare dove voglio la forza centrifuga se noi facciamo un looping tu rimani sempre con il tuo peso ovviamente nella fase bassa c'è la somma della forza di gravità più la forza centrifuga la parte alta è la differenza per le due perché la gravità è sotto la forza centrifuga verso l'esterno io tengo ci tengo 2g così quando stai sopra c'è il peso normale questa continua a rimanere in moto si questo è un'altra zona questo è un'altra zona è un'altra zona questo è il microfono attaccato alla bocca e secondo il microfono attaccato alla bocca c'è un motore di iniezione particolare via dall'elica 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 E' un'altra volta! E' un'altra volta! E' un'altra volta! Il senso è rullo! Ch хотя una volta subito! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.